eccoci qui allora ragazzi di nuovo buongiorno a tutti 11 04 siamo stati puntuali abbiamo aspettato qualche minuto in più per 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 attendere chi si è connesso con qualche istante di ritardo ma intanto intanto partiamo buongiorno benvenuti nuova esperienza online su su joiners sono giuseppe mi occupo di moderare questi incontri che hanno come obiettivo quello di entrare nel cuore delle aziende e a noi piace farlo non con le classiche presentazioni aziendali che magari avete sentito e risentito durante gli anni di università ci piace farlo ascoltando i professionisti che poi di fatto in quell'azienda ci lavorano tutti i giorni quindi respirano l'aria ti tira in azienda vi possono dare delle indicazioni molto più indicative e quindi quindi oggi con cgt del gruppo tesia vi presentiamo innanzitutto il gruppo nello specifico poi stefano e ximena porteranno le loro testimonianze e con giulia ed enrica parleremo di competenze nello specifico di soft skill ma soprattutto di opportunità di carriera in in cgt quindi oggi si parla sostanzialmente di di lavoro e questo è importante perché cgt ha diverse posizioni aperte vi faccio quest'altro spoiler poi giuro basta perché poi se no enrica mi dice che ho detto subito tutto subito all'inizio invece poi ve le condivideremo strada strada facendo nel frattempo intanto io ve li presento quindi ximena kuzmierzak giusto buongiorno correttissimo buongiorno specialista tecnologie di cantiere e con il tuo job title come dire vi do anche un po' un antipasto di quello che affronteremo nei prossimi 60 minuti ciao stefano saronni buongiorno sei carico buongiorno carico carico alla grande questo mi fa super piacere specialista efficienza energetica e quindi chi più energico di te durante questa diretta giusto e poi ve li ho presentate prima ma adesso le saluto di nuovo ciao rica salzano ciao giulia beretta mondo recruiting di cgt quindi specialiste per tutto ciò che riguarda curriculum colloquio opportunità più ne ha più ne metta buongiorno buongiorno a tutti buongiorno molto piacere perfetto alla grande allora io vi ho presentato il palco e ragazzi sfruttate al massimo questa opportunità per 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 fare le vostre domande togliere qualsiasi tipo di dubbio e approfittarne perché poi come vi ho detto prima tutto ciò è finalizzato insomma al racconto di opportunità di carriera e dei ruoli di stefano e di ximena allora io mi taccio giuro passo dalla modalità moderatore alla modalità ascoltatore e so che devo lasciare la parola a enrica poi ci saranno le testimonianze di stefano di ximena e poi rientriamo con giulia con nella parte di soft skill nel frattempo ovviamente continuo ad arrivare partecipanti io la sala d'attesa l'ho sbloccata quindi ovviamente adesso potrà partecipare chiunque arrivi enrica te grazie mille giuseppe vi chiedo solo conferma se vedete le slide sì vediamo le slide perfetto va bene allora prima di addentrarci in quella che è la tematica di di oggi ovvero l'innovazione legata alle due nostre aree di business e poi come anticipava giuseppe la parte dedicata alle soft skills mi sembra giusto raccontarvi brevissimamente un po di noi quindi chi è cgt e il gruppo tesi a di cui facciamo parte parte cgt è il dealer italiano di caterpillar lo siamo da quasi 90 anni quindi c'è sicuramente una partnership consolidata nel tempo nasciamo quindi come società italiana ma poi entriamo a far parte del gruppo internazionale che si chiama appunto tesia un breve inciso quindi caterpillar immagino lo lo conosciate tutti per politica aziendale da da anni decide di produrre i suoi prodotti andare poi a identificare in ogni nazione del mondo un dealer ufficiale ed è per questo che noi lo stiamo appunto per per l'italia facciamo poi parte come vi dicevo del gruppo tesia che è un gruppo ormai di estrazione internazionale che riunisce 24 società ed è presente in 15 paesi come potete vedere dalla mappa la nostra collocazione è prevalentemente concentrata nel sud europa con qualche eccezione e sostanzialmente tutte le varie società di cui il che fanno parte del gruppo sono però accomunate dagli stessi valori e da un forte radicamento locale ogni società del gruppo infatti pur operando in segmenti di mercato differenti perché all'interno del gruppo troviamo diverse anime da un lato abbiamo chi come cgt è un dealer caterpillar quindi solo per citarne abbiamo i nostri cugini del portogallo della spagna e dei paesi balcani ma dall'altra parte abbiamo poi tante altre società che operano in segmenti di mercato diversi tutte siamo però accomunate da un obiettivo comune che è quello di porci sul mercato come leader nella fornitura di soluzioni altamente all'avanguardia quindi caratterizzate da un forte contenuto tecnologico e che possano garantire al cliente la possibilità di rispondere a quelle che sono le sue esigenze quindi soluzioni integrate altamente customizzate giusto per darvi qualche indicazione numerica come vedete in questa slide il gruppo è costituito da oltre 90 anni di esperienza contiamo oltre 3400 dipendenti abbiamo un portafoglio di prodotti e servizi tra i migliori al mondo siamo presenti in oltre 116 filiali sedi in realtà è difficile stare al passo con l'evoluzione del gruppo le filiali sono diventate 120 e non ho fatto in tempo ad aggiornare la slide e siamo tutte unite poi da un obiettivo uno scopo comune che è quello di sostenere la crescita delle persone delle imprese e delle comunità andiamo a vedere un pochino più da vicino che cosa fa CGT quindi dicevamo prima il dealer italiano di caterpillar siamo caratterizzati da un forte radicamento locale come vedete dalla cartina siamo presenti in tutta italia con 29 filiali abbiamo circa 1200 persone e operiamo in due principali aree di business da un lato il mondo del movimento terra che solitamente anche quello più riconducibile a caterpillar e dall'altra parte abbiamo quella che noi definiamo divisione energia e seguiamo il cliente in tutta la filiera quindi da quella che è lo studio l'analisi del bisogno del cliente fino alla vendita o comunque la formulazione della soluzione più adatta al cliente fino ad arrivare poi a seguire il cliente durante l'attività di service andiamo a vedere un pochino più da vicino quelle che sono le due divisioni quindi divisione macchine movimento terra sicuramente la più conosciuta caterpillar però non produce solo i grandi mezzi quindi le pale gommate i damper che solitamente potete vedere magari nei cantieri a bordo delle strade non solo in realtà abbiamo poi una vasta gamma di macchine o comunque un'area di business dedicata a quello che è il mondo del paving delle macchine stradali abbiamo poi un'area che sicuramente è la più giovane è nata di recente dedicata a tutto il ciclo del recycling abbiamo poi il mondo delle macchine compatte quindi le macchine di dimensioni ridotte che magari vedete durante i vostri viaggi in città o nei paesi dove ci sono i cantieri stradali e poi tutto il mondo della frantumazione e della vagliatura accanto al mondo del movimento terra c'è poi la divisione energia caterpillar oltre ad essere appunto produttore di macchine è uno dei primi produttori al mondo di motori motori che possono avere applicazioni differenti all'interno della divisione energia quindi noi andiamo a distinguere sei macro aree in cui andiamo ad operare e dove si vanno ad applicare sostanzialmente questi motori abbiamo il mondo marino quindi motori di propulsione o di generazione di energia che possiamo trovare a bordo di mega yacht come vediamo nel mondo pleasure o nel marino commerciale pensiamo alle navi da crociera ai traghetti rimorchiatori e dall'altra parte abbiamo il mondo industriale quindi il motore caterpillar e non solo perché poi in realtà noi diciamo siamo dealer anche di altri brand possono essere installati a bordo di applicazioni più complesse nell'immagine vediamo un locomotore un locomotore può essere motorizzato caterpillar abbiamo poi tutto il mondo della generazione di energia elettrica pensiamo all'immenso traffico di dati che c'è oggi al mondo e la necessità sempre più imminente di avere tanti data center che sostengano questo traffico di dati lì è importantissimo che l'energia ci sia sempre non salti sostanzialmente la corrente quindi troviamo tanti motori diesel, gruppi elettrogeni ad alimentare questi data center e non solo perché poi le applicazioni possono essere moltiplici abbiamo poi il mondo della cogenerazione di cui ci racconterà meglio Stefano con i motori a gas tendenzialmente da rete e poi in ultimo ma non per importanza il mondo dell'oil and gas vediamo nell'immagine una piattaforma in mezzo all'oceano ovviamente lì diciamo la corrente l'Enel non arriva per cui va alimentata e allo stesso tempo troviamo anche motori che alimentano applicazioni come possono essere le pompe o altri macchinari presenti a bordo io mi taccio la presentazione diciamo è stata brevissima giusto per darvi alcune informazioni su CGT e il gruppo prima di passare la parola a Ximena vorrei chiedere il supporto a Giuseppe per lanciare un mini sondaggio eccolo qui Enrica eccolo qui allora vi chiediamo secondo voi quanto sono innovativi i cantieri forse non siate così pessimisti e allora così è così in netta maggioranza per ora forse dai siete tutti clementi non volete esporvi così tanto poi invece c'è chi si sbilancia e quindi chi li ritiene tanto innovativi e chi poco inotti poi cari speaker di CGT ci dite qual è la risposta corretta allora in verità non esiste una risposta corretta perché dipende da diversi fattori sia quelli economici di un'azienda piuttosto che anche da dalla posizione geografica diciamo che lo sviluppo dell'Italia è molto ampio quindi anche le aziende hanno diverso utilizzo dell'innovazione però rispetto al mercato quindi a come si sono evoluti le altre aziende per la tecnologia dire così così non è sbagliato ok ottimo allora intanto siamo arrivati a 43 partecipanti e quindi facciamo così direi chiudo qui il sondaggio tanto abbiamo avuto una panoramica insomma di quelli che sono di quelle che sono le vostre le vostre idee e quindi Ximena do la parola a te giusto? sì ottimo allora piacere ragazzi io sono Ximena sono un ingegnere di l'architetto quindi mi sono laureata di recente al giorno d'oggi mi sono occupata in CGT dove lavoro da quattro anni e mezzo di tecnologie applicate al cantiere quindi appunto a tutto quello che riguarda l'innovazione del cantiere per migliorare sia le lavorazioni che comunque anche la vita di chi ci lavora partiamo da qui da questa mappa questa mappa ci dimostra come è stata l'evoluzione appunto e dove si vuole spingere in un futuro in un cantiere partiamo quindi dalle costruzioni convenzionali il cantiere tradizionale con picchetti, modine eccetera arriviamo all'automazione quindi alla prima introduzione di macchine che permettono a chi lavora il cantiere di avere una facilitazione un aiuto sul posto di lavoro il semiautomatismo che qui c'è la freccettina come se fosse il presente ma vi direi che il presente ormai è andato avanti col semiautomatismo intendiamo quelle macchine che svolgono delle funzioni diciamo programmate dall'uomo quindi l'uomo è comunque molto importante in cantiere ma ho un aiuto maggiore e arriviamo fino all'autonomia autonomia intendiamo macchine che svolgono delle operazioni completamente da sole perché dicevo che la freccettina sulla seconda posizione è sbagliata perché siamo già nella terza in verità esistono già macchine che grazie all'automazione completa possono svolgere dei ruoli che sarebbero diciamo anche un pochino di poco valore in un cantiere e quindi l'uomo dedicato inizialmente a quel lavoro può svolgere un'altra lavorazione questo è quello che riguarda il cantiere ma passiamo adesso a capire anche quali sono le esigenze dei nostri clienti e come sono cresciute innanzitutto questo ci serve un po' come introduzione per capire quelli che sono poi le tecnologie le piattaforme sviluppate da CGT e collaboratori per aiutare il cliente la nostra diciamo il nostro motto il nostro futuro qual è? non è solo quello di vendere macchine ma di vendere dei servizi quindi essere dei partner del cliente a 360 gradi il cliente ha bisogno di gestire le sue informazioni di delegare magari a qualcuno la comunicazione che c'ha bisogno di una manutenzione su una macchina di avere delle consulenze applicative quindi che qualcuno che gli aiuti ad aumentare la sua produttività e a ottimizzare il suo ciclo di lavoro e arriviamo alle performance garantite quindi avere una produzione completamente sotto controllo monitorando le lavorazioni ma anche la vita stessa della macchina sapete che se una macchina è ferma ovviamente non produce se non produce mi causa una mancata produzione magari in quel giorno in quel cantiere quindi avere sotto controllo tutti questi dati ci permette di offrire a un cliente un servizio completo e renderlo un pochino più sicuro su quella che è la sua lavorazione andiamo però nello specifico delle tecnologie qui in questo caso abbiamo citato quelle di CAT 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 ha sviluppato tantissimi prodotti a supporto per migliorare la quotidianità del lavoro come vedete in primo luogo abbiamo la connessione la connessione della macchina a delle piattaforme che mi permettono in tempo reale di vedere la vita di queste macchine di capire quanto stanno producendo di capire anche la posizione geografica in cui stanno lavorando mi permette questo di migliorare anche l'attività produttiva quindi attraverso il caricamento per esempio dei progetti 3D io posso monitorare l'avanzamento dei lavori passiamo quindi al grade quindi al livellamento appunto vi ho detto che mi occupo di tecnologie non vi ho specificato che mi occupo di tecnologie 3D dopo vedremo nello specifico cosa vuol dire la tecnologia 3D in cantiere ma già da qui potete vedere che ci serve a migliorare la precisione questo cosa vuol dire se io ho un sistema 3D un progetto caricato anche da remoto che ciò mi ottimizza le lavorazioni il mio operatore non ha bisogno di avere qualcuno che gli dia un riferimento di scavo ma si muove in maniera autonoma le tecnologie che vedete elencate il grade assist, il grade 2D e il 3D cut grade mi permettono appunto di automatizzare e migliorare la vita dell'operatore dando delle indicazioni direttamente in macchina sul lavoro che deve svolgere arriviamo alla compattazione quindi alle macchine per esempio per le pavimentazioni o anche semplicemente quelli che devono compattare il terreno stiamo arrivando ad avere il command for compaction quindi quello che vi stavo dicendo prima di lavori completamente autonomi la macchina viene impostata su cosa deve lavorare come lo deve lavorare e svolge da sola questo lavoro successiva tecnologia molto importante è legata alla pesa pesare il materiale che sto caricando su un camion mi permette di evitare delle lavorazioni aggiuntive cosa vuol dire? che in un cantiere tradizionale il camion viene caricato a occhio lasciatemi dire e nel momento in cui sta uscendo dal cantiere viene pesato se il peso non è corretto il camion deve tornare indietro e quindi deve essere o caricato o deve essere tolto il materiale se io ho un sistema però di pesatura integrato nel mio escavatore o nella mia pala che sta caricando il camion io ottimizzo questo processo quindi nel momento in cui sto caricando il materiale lo sto già pesando e so quanto deve caricare il camion direi che è una tecnologia molto apprezzata dai clienti e tantissimi lo usano anche come database del materiale che sta entrando piuttosto che sta uscendo prossima tecnologia il detect di cui ne parleremo meglio con un'altra slide è una tecnologia legata prettamente alla sicurezza quindi aumentare la consapevolezza e riduzione dei rischi con dei sistemi che siano camere piuttosto che sensori e mi permettono di evitare anche degli ostacoli l'ultima tecnologia non posso neanche dire in via di sviluppo perché è già stata sviluppata ed è già in uso e la stiamo già lanciando sul mercato è il controllo remoto che può avvenire sia con dei radiocomandi piuttosto che con delle stazioni completamente distanti dalla macchina che mi permettono di lavorare in remoto vediamo più nel dettaglio il Vision Link che era la piattaforma di condivisione di questi dati quando vi ho detto che monitoriamo i dati di vita della macchina in verità il ruolo fondamentale per CGT è la Control Tower è un ufficio con dentro 4-5 ragazzi che si occupano appunto di monitoraggio il loro compito è quello di osservare le vite delle macchine motivo per cui il nostro servizio tende ad essere sempre più proattivo cosa vuol dire? che io monitorando la macchina notando ogni quanto determinati pezzi hanno bisogno di una manutenzione posso programmare in anticipo le manutenzioni e posso anche prevenire dei danni leggendo i codici di errore che la macchina mi invia questo monitoraggio è fondamentale e il Vision Link è stato pensato inizialmente solo per le macchine CAT adesso si è spianso a tutta la flotta della macchina e anche le macchine che si occupano di altro come i vari frantoi si stanno integrando sempre a questa piattaforma in modo da poter essere monitorate quindi la nostra Control Tower ha un ruolo fondamentale in questo sviluppo successivamente quindi parliamo di tecnologia 3D è una slide molto per immagini perché qua vi voglio raccontare un pochino quello che infatti è stato il mio ruolo principale ad oggi vi ho parlato dei progetti 3D ma come fa questa macchina a lavorare con un progetto 3D la macchina in questo caso vedete un palo con un'antenna è un'antenna GPS la macchina è collegata ai satelliti conosce le sue dimensioni e grazie al progetto 3D caricato anche da remoto mi permette di capire in ogni momento dove mi trovo in mezzo al cantiere il processo è semplice ovviamente ha bisogno di un topografo di cantiere che mi faccia un rilievo e successivamente sviluppi un progetto una volta che questo progetto è stato sviluppato e digitalizzato viene inviato alla piattaforma che è una sorta di cloud quindi una libreria digitale a cui ha accesso l'azienda che ha in possesso la flotta macchine da lì questo progetto viene mandato a tutte le macchine interessate a quella lavorazione a quel cantiere successivamente posso monitorare il suo lavoro nel computerino a metà slide in basso vedete dei colori sul computer questo è quello che è l'avanzamento lavori ha una leggenda e mi dice quanto devo ancora scavare o quanto ho già scavato è una tecnologia che all'estero ha già preso tantissimo piede in Italia finalmente si stanno vedendo un po' questi vantaggi e infatti per questo quando abbiamo detto che l'innovazione nei cantieri è così così perché appunto bisogna ancora convincere alcuni cantieri altri si sono già convinti molto bene che queste tecnologie sono assolutamente utili evito anche le persone intorno alla macchina perché se il mio operatore sa benissimo come deve lavorare non ha bisogno di persone intorno parlando anche di sicurezza andiamo a a parlare anche del cat command quindi la guida da remoto di cui vi ho citato prima abbiamo detto che la guida da remoto può avvenire sia con un radiocomando che con una stazione come quella che vedete in foto questa tecnologia mi permette grazie a un collegamento con un'antenna mi permette allo stesso operatore di lavorare su diverse macchine sembra fantascienza ma non lo è funziona benissimo funziona senza dei ritardi sulle lavorazioni quindi è in tempo reale la stazione è dotata di diverse telecamere quindi sia dalla vista come della cabina della macchina sia intorno per vedere quello che succede in quali situazioni è importante una tecnologia del genere nei cantieri pericolosi nei cantieri dove si toccano per esempio delle scorie che sono pericolose per l'uomo oppure nei posti dove siamo a rischio frana per esempio chi ha mostrato molto interesse per questa tecnologia è la protezione civile nei posti in cui per esempio c'è stato un terremoto oppure una valanga come quella della marmolada abbiamo possibilità di utilizzare una tecnologia che mi permette di togliere le persone dal posto pericoloso questa stazione può comandare anche diverse macchine abbiamo detto quindi se io ho in cantiere due macchine che svolgono due lavori diversi lo stesso operatore può switchare da una macchina all'altra senza minimo problema la seduta è anche più parliamo di ergonomia in questo caso è molto più comoda per un operatore se sta lavorando in zone dove ci sarebbe particolare vibrazione ipotizziamo per esempio la lavorazione con un martellone il martellone fa vibrare tutta la macchina quindi anche se i sedili delle macchine sono ergonomici l'operatore a bordo lo sente la sente questa vibrazione una stazione del genere mi permette di togliere questo fastidio di ottimizzare la sua sia sicurezza che quindi anche la qualità della sua vita a lavoro che ovviamente è molto importante parlando ancora di sicurezza andiamo a citare i sensori ottici cosa vuol dire durante le movimentazioni i punti ciechi della macchina sono svariati anche se abbiamo le telecamere potrebbe esserci qualche distrazione e purtroppo gli incidenti sul posto di lavoro sono sempre molto frequenti con i sensori ottici andiamo a ridurre questo rischio perché mi permettono di visualizzare degli ostacoli sia con un monitorino aggiunto come quello che vedete in foto sia con un segnale acustico inoltre questo sistema funziona sull'idraulica della macchina quindi mi rallenta il movimento della macchina fino a fermarla funzionano in tutte le direzioni funzionano sia col movimento del braccio che del carro della macchina e ci sono diverse tecnologie anche in questo caso alcune prevedono per esempio che l'operatore debba indossare un target quindi per esempio essere una cosa che ha insieme alla in dotazione insieme ai DPI un target che mi permette di collegarsi al ricevitore che c'è in cabina e dare queste informazioni altrimenti stiamo parlando proprio di sensori ottici come in questo caso che mi permettono in tempo reale di far vedere in cabina quello che sta succedendo così abbiamo fatto una piccola carellata e queste tecnologie possono essere applicate dove? alla singola macchina assolutamente posso applicarle anche all'intera flotta e a un intero cantiere le macchine sono interconnesse tra di loro successivamente anche all'impianto quindi se io ho un impianto una cava in cui ho diverse macchine che stanno lavorando e anche un impianto di frantumazione di vagliatura devo monitorare il ciclo di tutto il cantiere posso farlo questo mi permette di monitorare sia la produzione che i costi ovviamente per tonnellata le manutenzioni che possono essere proattive grazie al vision link che abbiamo visto prima e cosa non di poco conto le emissioni e i consumi energetici che appunto è il futuro punto di interesse dei cantieri e speriamo sia già odierno così come nell'ultima slide possiamo vedere che grazie alla tecnologia control on che è stata sviluppata da CGT con un'azienda locale tecno abbiamo il monitoraggio di tutto l'impianto quindi della flotta macchine e di tutto l'impianto per efficientare questa produzione quindi riusciamo a percepire dove viene per esempio prodotta nell'impianto energia o dove viene utilizzata riusciamo a calcolare il materiale in entrata e soprattutto i prodotti in uscita questo ci permette di efficientare al massimo tutto il cantiere e permettere a un'impresa un'azienda di avere sotto controllo e riuscire a ottimizzare quello che può ottimizzare per quanto riguarda l'energia dopo ci parlerà molto meglio Stefano di questa parte ma appunto è un è un punto molto importante al giorno d'oggi tenere sotto controllo appunto sia le emissioni che quello che si può fare diciamo con l'energia io intanto chiedo a Giuseppe se lancia i prossimi due sondaggi arrivano arrivano eccoli qui allora questo è il secondo Aiximena commenta pure la domanda vi ho citato il sistema 3D quali vantaggi apporta il sistema 3D in cantiere abbiamo parlato un po' di quello che è la funzione non ho citato apposta i vantaggi perché voglio vedere il vostro punto di vista quindi abbiamo la riduzione dei tempi di lavoro la maggior sicurezza in cantiere l'aumento della produttività e il miglioramento della qualità del lavoro benissimo abbiamo tante tante opinioni diverse la verità è che sono tutti vantaggi quindi non esiste una risposta corretta abbiamo detto che il sistema 3D ci permette appunto di migliorare tutto riduzione dei tempi di lavoro perché appunto se lavoro già al primo colpo bene con un progetto non ho bisogno di rilavorazioni maggior sicurezza in cantiere perché appunto non ho persone intorno aumento della produttività sempre collegata sempre anche alla riduzione dei tempi lavoro meglio lavoro produco di più e lavoro in meno tempo miglioramento della qualità del lavoro sicuramente allora facciamo così io termino il sondaggio e lancio il terzo giusto? sì andiamo per quale ragione importante lo sviluppo della control tower su questo mi sono soffermata particolarmente vediamo se siete stati attenti esatto abbiamo la prevenzione attraverso raccolta dati controllo del lavoro degli operatori o servizio operativo in caso di codice di errore netta maggioranza 60% prevenzione guasti attraverso raccolta dati è quella che va per lo più perfetto ottimo spero spero di essere stata abbastanza chiara anche se raccogliere tutte le tecnologie in così poco tempo è molto difficile e vi lascio la parola al collega vai Stefano allora intanto buongiorno a tutti mi chiamo Stefano Saronni sono laureato in ingegneria energetica e mi occupo in realtà ho cambiato percorso sempre nella stessa azienda in GGT e lavoro da tre anni qua prima mi occupavo di la creazione tecnica delle offerte rimpianti di cogenerazione adesso vedremo che cosa sono e dall'ultimo anno invece mi sono occupato più di efficienza energetica che cos'è la cogenerazione è un metodo di produzione di energia elettrica e termica distribuita quindi rispetto alla concezione un po' più tradizionale diciamo in Boga ancora adesso ma più decenni fa la produzione distribuita si applica a industrie che producono attraverso un motore a combustione interna che brucia fondamentalmente gas da rete energia elettrica energia termica e se frigorifera prende il nome di trigenerazione era una tecnologia innovativa 15-20 anni fa adesso perché non lo è più perché di base è abbastanza consolidata chi ha scelto questa tecnologia sta trovando i vantaggi che sono riscontrabili nel fatto che l'efficienza energetica di queste produzioni combinate è maggiore rispetto ad acquistare energia elettrica dalla rete e acquistare gas per produrre vapore ad esempio acqua calda tramite delle caldaie a fiamma tradizionale però c'è ancora dell'innovazione e c'è ancora margine di miglioramento perché se la tecnologia ormai diciamo è conosciuta dagli industriali che ovviamente hanno scelto questo metodo nel loro industria e stanno avendo beneficio altri magari l'acquisiranno nei prossimi anni speriamo e l'innovazione adesso è rappresentata da alcuni cambiamenti di paradigma per esempio una volta nell'industria il concetto base era la resa dei vettori termici ad esempio quindi io compravo una caldaia a vapore per le tonnellate ore che poteva produrmi adesso siamo passati ad un concetto invece un po' più evoluto che è quello dell'efficienza cioè posso produrre vapore con una determinata efficienza ovviamente poi c'è anche l'aspetto ambientale un'implante di generazione possiamo vedere da questa slide come è composto questo è in container poi ci sono altre configurazioni comunque c'è un un motore nel nostro caso caterpillar giallo tipico un sistema di c'è un alternatore che consente di produrre energia elettrica accoppiato all'albero motore e poi dai fumi di scarico infatti potete vedere il cammino il cilindro bello luccicante con il lamierino è una caldaia a vapore quindi i fumi vengono utilizzati per scaldare acqua che diventa vapore viene utilizzata all'interno di un processo produttivo ad esempio il motore stesso si scalda e un circuito di acqua camicie si chiama permette di raffreddare le pareti del motore un po' come succede col radiatore dell'auto il radiatore serve per dissipare in atmosfera noi invece utilizziamo quel calore per scaldare ancora il processo produttivo del nostro cliente in più abbiamo citato prima la trigenerazione quindi se si produce anche acqua refrigerata o acqua gelida nel processo tramite un altro apparato un po' più complesso che si chiama assorbitore frigorifero riesco anche ad avere appunto questo terzo beneficio questo tipo di impianti possono essere applicati in varie tipologie di industria tendenzialmente i manufatturieri quindi i pastifici i caseifici per la produzione tessile produzione chimica produzione farmaceutica ma anche in centrali di teleriscaldamento ad esempio che quindi producono acqua calda che poi vendono e distribuiscono nelle varie abitazioni in quel caso l'energia elettrica non viene tanto consumata in loco poiché abbiamo soltanto gli ausiliari e il resto viene ceduto in rete quindi abbiamo detto questa tecnologia ormai è consolidata l'innovazione da cosa è rappresentato da un sistema di intanto monitoraggio e supervisione da remoto abbiamo che gli operatori nella loro diciamo dal loro computer lì in impianto ma magari negli uffici e non sul piazzale dove è posizionato il container della cogenerazione riescono anche a fare azioni concrete sulle valvole sulla modulazione di potenza che sta erogando il motore abbiamo anche un sistema di trend quindi viene praticamente misurata la potenza media prodotta la potenza elettrica ma anche le sono di temperatura ad esempio per cercare di capire se ci sono guasti o non ci sono abbiamo anche noi per quanto riguarda tutti gli impianti di cogenerazione sotto il nostro contratto di manutenzione abbiamo anche noi una control tower a Vercelli in cui ci sono degli operatori che da remoto riescono a dare indicazioni a chi è sul campo riescono già a fare regolazioni proprio fisicamente con attuazione fisica sul campo in più noi abbiamo sviluppato una piattaforma che si chiama Energy Report che raccoglie tutti i dati che sono presenti sull'impianto e rende disponibile al cliente in schermate rapidi semplici e diciamo capibili da chiunque anche da chi è meno tecnico magari come sta andando il mio impianto quindi abbiamo ad esempio il livello di produzione con le proiezioni annue quindi posso capire dopo magari due mesi o il primo semestre come andrà la mia produzione a fine dell'anno abbiamo anche un indicatore sulla sostenibilità quindi sulle tonnellate di CO2 evitate e anche ovviamente i margini cioè il risparmio di questa cogenerazione perché perché questo impianto che cosa consente di fare produrre energia elettrica abbiamo detto quindi è mancato acquisto dalla rete produrre energia termica che quindi non devo produrre attraverso i sistemi tradizionali e facendo praticamente un bilancio con le mie tariffe ovviamente che ho che ho con il trader dell'energia riesco a capire quanto sto risparmiando e dal risparmio in ore o anche all'anno riesco a capire in quanto rientro dal mio investimento questo ovviamente soprattutto negli ultimi anni per i clienti è il driver principale e quindi questa piattaforma riesce anche a capire se inizio ad avere magari delle perdite di performance dovute a uno sporcamento nella caldaia ad un guasto e così via e quindi posso collaborare insieme ai nostri tecnici del servizio per effettuare un sopraluogo vedere fare i test e magari proporre al cliente prima che si rompa un pezzo un intervento quindi anche qui in maniera proattiva abbiamo altre schermate mostrano ad esempio il rendimento e c'è la fascia di garanzia che è quella sottoscritta dal contratto possiamo anche confrontare vari periodi questo è uno strumento che noi diamo come servizio ai clienti ma utilizziamo anche noi internamente per fare i consulenti energetici dei nostri clienti questo è il concetto è uno dei concetti innovativi perché una volta diciamo ci si preoccupava soltanto di soddisfare determinati requisiti delle richieste termiche le richieste elettriche però non del come lo vado a fare qui noi invece andiamo a ottimizzare l'esercizio andiamo a spremere diciamo al massimo e ottimizzando ovviamente i risparmi economici ma anche i risparmi energetici quindi in realtà anche le tonnellate di CO2 evitate abbiamo poi un altro tipo di innovazione che è quello rappresentato di nuovi prodotti nuovi rispetto a noi ovviamente rispetto al nostro portafoglio standard quindi abbiamo vendiamo anche motori completamente a idrogeno ad esempio questo in foto oppure anche con blending quindi miscele di idrogeno e gas naturale ovviamente cambiando combustibile deve cambiare la tecnologia ma anche in questo caso non vendiamo solo motori io l'ho dato un po' per scontato all'inizio però in realtà noi potremmo vendere diciamo in alcuni casi lo facciamo il puro motore ma in realtà quello che siamo bravi a fare è l'impianto completo quindi seguiamo dalla fase di visita in sopraluogo dal cliente seguiamo tutta la parte di design quindi andiamo a progettare e a ottimizzare questa idea che si è fatta il cliente quindi analizzando le curve di carico i consumi andiamo a proporre il sistema che per lui è il migliore che massimizza ovviamente il tempo di rientro e quindi forniamo diciamo il chiave in mano quello che apprezza diciamo il cliente negli ultimi anni a sinistra invece vediamo degli elettrolizzatori in questo caso quindi sono a membrane e perché dovremmo utilizzare degli elettrolizzatori ci sono stati dei casi soprattutto anche legati a bandi praticamente in cui veniva incentivata questa produzione di idrogeno accoppiata a fonti rinnovabili tipicamente fotovoltaico quindi quando un cliente si trova molto ad esempio un campo un terreno incolto può posizionare installare un impianto fotovoltaico accoppiare un elettrolizzatore produrre idrogeno e noi forniamo anche verso destra il motore che può essere un utilizzo finale dell'idrogeno altre tecnologie che cito per mancanza di tempo diciamo sono le fuel cell e noi le possiamo proporre a gas metano attualmente ma poi anche completamente ad idrogeno dei sistemi di accumulo che sono delle classiche batterie che vengono però vendute esiste anche un prodotto di cat quindi un container di batterie con la gestione automatizzata dei carichi questi ad esempio possono essere utili nelle zone rurali abbiamo anche sviluppato qualche anno fa un'analisi per un sito produttivo che utilizzava energia elettrica e termica soltanto di giorno e quindi spegneva il motore di notte abbiamo fatto una simulazione per cui tenendo acceso anche di notte il cogeneratore poteva caricare le batterie e farle scaricare di giorno dato che comunque la domanda elettrica era alta e quindi possiamo anche fare queste diciamo studi appositi abbiamo anche tutta la filiera del biometano che vedremo in seguito nei casi studio e stiamo anche facendo un po' di scouting per i sistemi di cattura della CO2 sarebbe bello catturare la CO2 dai nostri fumi di scarico è un po' difficile perché la concentrazione di CO2 non è molto alta però ci proviamo e stiamo continuando a parlare con gli esperti del settore per inglobare anche quella tecnologia nella nostra fornitura andiamo a vedere i casi studio abbiamo un'altra piattaforma in questo caso non è collegata alla cogenerazione ma a tutto l'impianto del cliente quindi monitorando tutti i sistemi di generazione di vettori quindi turbina gas cogeneratori chiller elettrici quindi che funziona una compressione generatore di vapori fotovoltaico questa piattaforma con un algoritmo di machine learning ha bisogno di qualche mese se non un anno di apprendimento delle curve di carico del cliente dopodiché mi dà impasto mi dà diciamo a disposizione una ricetta giorno per giorno di come far funzionare i miei asset quindi a che potenza per andare il cogeneratore quando utilizzare il vapore della cadera tradizionale quando accendere il chiller per ottimizzare il driver che potrebbe essere il risparmio economico tipicamente o anche a livello di sostenibilità le tonnellate di CO2 procediamo invece qui ok era alcuni diagrammi per i vari i vari vettori energetici con un bel Sanche diagram ho presentato invece anche il caso Blue Game perché il nostro reparto marino quindi CGT ma anche finanza auto che è un'altra società del gruppo Tesia operante in Spagna soprattutto hanno sviluppato il sistema di propulsione a idrogeno insieme alla ditta Blue Game di cui il progetto questa nave questa barca di appoggio per l'America's Cup di Barcellona del sì del 2024 quindi è stata presentata in questo caso a Genova in anteprima anche quindi gli altri settori c'è non solo la cogenerazione che è uno dei nostri settori della divisione energia diciamo sta lavorando su questi prodotti innovativi ultima citazione molto veloce per non rubare tempo agli altri è il diciamo la filiera del recycling nel senso che in questo piccolo schema potete vedere molte connessioni ne scelgo una privilegiata nel senso che a sinistra vedete i digestori applicati diciamo alla produzione di biogas il biogas è composto fondamentalmente da CO2 e metano una volta seguiva la strada alta e quindi veniva bruciato in uno dei nostri cogeneratori per produrre elettricità e un po' di calore che tornava nei digestori attualmente invece potrebbe convenire il fatto di pulire questo biogas fare upgrading quindi separare CO2 e CH4 il biometano dato che è di origine biologica può essere immesso in rete con un incentivo può essere stoccato bruciato dalla candaia tradizionale oppure usato in un impianto di cogenerazione che produce calore e quindi può ritornare al biodigestore spero di avervi dato un po' una panoramica o magari corso in ultimo però adesso spazio a sondaggio allora eccoci qui numero 4 allora la prima domanda è quanto è importante secondo voi investire in innovazione in azienda ho lasciato appositamente in maniera generale questa domanda perché volevo lasciare spazio diciamo alla all'opinione di ciascuno ok allora dire che per la stragrande maggioranza ha detto essenziale io aggiungo in un mercato come in un settore come quello energetico anche secondo me è essenziale poi non c'è una risposta ovviamente giusta o sbagliata questo dipende dal nostro sentire però in un settore che completamente in evoluzione è effettivamente essenziale ed è per quello che anche noi abbiamo scelto questa strada di innovare passiamo alla seconda domanda grazie mille Giuseppe allora secondo te un'azienda di servizi su cosa dovrebbe puntare per rinnovare qua ci sono quattro opzioni nuovi prodotti nuovi mercati nuovi approcci alla risoluzione delle necessità del cliente nuove modalità di vendita presentazione nuovi mercati intendo buttarsi in altri mercati che tendenzialmente non fanno parte del proprio portafoglio della propria di quello che si vende diciamo o di quello che si fa abitualmente lasciamo ancora magari 30 secondi per per completare anche se per ora spicca nuovi approcci alla risoluzione delle necessità intanto ragazzi riscaldate la voce che tra poco arriva dal momento Q&A mi raccomando vi dico sempre che la community di Joyner è sempre attiva non mi fate fare brutte figure mi raccomando allora vedo che le risposte non aumentano quindi direi che ha vinto dalla vostra opinione alla fine nuovi approcci alla risoluzione delle necessità ed è un bel tema secondo me questo perché non è affatto scontato ogni azienda secondo me sceglie un po' come tararsi in base a queste quattro cose noi in realtà abbiamo fatto tutti e quattro a seconda dei settori a seconda dei casi magari privilegiamo alcune cose però poi ovviamente è in base alla singola azienda e alle singole e a singoli casi e a singole sezioni non voglio vare altro tempo per Giulia quindi vi ringrazio intanto passo la parola eccoci ragazzi allora come un po' anticipato da Giuseppe ci tengo ad essere breve e concisa per quanto riguardano le skills in modo tale poi da lasciarvi il tempo per le domande che avete per noi allora adesso andremo appunto a identificare e capire insieme quali sono le skills in particolare le soft skills che sono ricercate e come mai sono così importanti per l'azienda al giorno d'oggi prima però ci teniamo a fare un po' una come dire una premessa andando a fare chiarezza e distinzione tra quelle che sono le hard skills e le soft skills per quanto riguarda le prime come potete vedere nella slide sono quelle che sono le competenze tecniche che vengono apprese durante il percorso di studi o durante il percorso lavorativo come esempio di hard skills abbiamo inserito competenze tecniche linguistiche ed informatiche ma ci tengo anche a fare un altro esempio per rendervi un pochettino più chiara l'idea ad esempio se durante il percorso universitario si è avuto la possibilità di sviluppare progetti attività e di utilizzare e di sapere utilizzare bene Microsoft Excel questa potrebbe essere assolutamente un hard skills in linea con quelle che sono un pochettino le skills richieste dall'azienda e quindi in questo caso il sapere utilizzare Microsoft Excel potrebbe essere sicuramente un buon punto di partenza per quanto riguarda invece le soft skills fanno parte sicuramente di quello che è il bagaglio personale di ognuno di noi e possono essere messe in campo in qualsiasi momento indipendentemente chiaramente da il ruolo che ognuno di noi andrà a ricoprire diciamo che le competenze tecniche in questo caso sono assolutamente importanti ma la parte del bagaglio personale quindi competenze personali lo sono forse un po' di più soprattutto al giorno d'oggi come altro esempio ci tengo a sottolineare ad esempio come il progetto di Erasmus potrebbe sicuramente fare la differenza in termini di apertura mentale e di anche maturazione personale quindi soprattutto all'inizio quando magari i giovani ragazzi si approcciano a quello che è un po' il mondo del lavoro sicuramente le soft skills potrebbero assolutamente fare la differenza e risultare in questo caso veramente preziose per concludere ci tengo a sottolineare come appunto le soft skills fanno parte di quella che è la parte cognitiva di ognuno di noi che quindi vengono messe in atto poi indipendentemente dal ruolo quindi dalle situazioni nelle quali ognuno di noi è coinvolto nel quotidiano adesso chiederei il supporto ai colleghi in modo tale che abbiamo pensato per voi una domanda per farvi poi entrare in quello che è il vivo del punto delle skills quindi chiediamo a voi con questo sondaggio quali possono essere le skills che secondo voi ad oggi sono più ricercate poi andremo insieme a vedere effettivamente quali lo sono allora guarda Giulia io ti interrompo la tua condivisione per condividere il mio schermo il mio menti meter l'abbiamo preparato per voi allora ragazzi facciamo così torno un attimo indietro alla slide per farvi vedere ecco il codice e il QR code con cui unirvi a noi su menti.com e poi appunto vi faccio non vendere la domanda per creare questa nuvoletta di skill una dietro l'altra potete utilizzare ovviamente anche il codice che trovate sulla sinistra andando su menti.com aprite tranquillamente un'altra scheda sul vostro il vostro computer aspettiamo intanto qualche secondo attimo Grazie a tutti. Sei muto, Giuseppe? Eccomi, messi il zoom, fai i capricci. Dicevo, il codice resta comunque qui in alto, quindi se qualcuno non l'ha recuperato prima può comunque unirsi anche adesso. Intanto eccole, arrivano, arrivano. Giulia, lascio a te tutti i commenti. Assolutamente, sì, aspettiamo ancora magari qualche istante e poi commentiamo insieme. Ecco, mi balza subito all'occhio la conoscenza informatica. Ecco, mi viene da dire che magari come soft skills sarebbe più identificabile, cioè in questo caso conoscenza informatica magari lo possiamo un pochettino più identificare come un hard skill in questo caso, però ecco, sicuramente è un buon punto di partenza. Ok, dai, direi che ne abbiamo un po' adesso. Se magari la collega Enrica riesce a ritornare sulla slide così andiamo a capire appunto secondo due ricerche recenti quali effettivamente sono le più ricercate dalle aziende e perché. Ok, allora facciamo così, interrompo la mia, perfetto. Grazie. Eccoci qua, allora, secondo appunto una recente ricerca, intanto faccio questa premessa, 75% di successo dell'attività dipende appunto dalla padronanza delle soft skills e soltanto il restante 25% dalle competenze tecniche teoriche. Quindi mi attacco un po', mi aggancio a quello che ho detto prima, vedete come le soft skills sono sicuramente parte predominante e importante al giorno d'oggi. Mentre per quanto riguarda una ricerca condotta da DECO, le soft skills che ad oggi sono più ricercate sono appunto flessibilità mentale, curiosità, apprendimento costante e innovazione. Se non ricordo male, alcune sono state anche azzeccate dai ragazzi che appunto le hanno dette prima, quindi ecco queste qua, queste quattro soft skills rappresentano sicuramente l'identikit di chi riesce ad inserirsi con maggiore fluidità e facilità in quello che è il mondo del lavoro. Quindi il nostro consiglio è quello di investire di più e sempre di più in quelle che sono le competenze trasversali in modo tale che possano queste ultime rivelarsi davvero un punto fondamentale e risorse importanti, soprattutto quando ci si approccia al mondo del lavoro per la prima volta. Qui vedete un po' quelle che sono per noi le soft skills importanti, in particolare ne vedrete cinque, quindi quelle un pochettino più in grosso che sono appunto team working, essere flessibili, essere curiosi, spirito imprenditoriale ed essere innovativi. Queste sono le cinque soft skills che io e la collega Enrica abbiamo individuato e che secondo noi sono quelle che CGT diciamo predilige e ricerca di più. Andiamo poi nell'ultima slide conclusiva a capire effettivamente un pochino più nel dettaglio a cosa fanno riferimento. Quindi team working è appunto la capacità di lavorare in gruppo garantendo quindi buone relazioni per quello che è il raggiungimento di obiettivi comuni. Essere curiosi fa riferimento al creare attivamente opportunità di apprendimento e mostrare un approccio esplorativo. Essere flessibili vuol dire adattarsi in maniera veloce al cambiamento. Essere innovativi vuol dire sperimentare nuove soluzioni senza rimanere ancorato a logico metodi obsoleti e quindi generare idee innovative. E spirito imprenditoriale quindi per concludere fa riferimento al svolgere il proprio lavoro possedendo quello che è una visione un pochettino del agisco come se l'azienda fosse la mia. Quindi queste sono un po' le cinque soft skills che abbiamo identificato e che per noi sono sicuramente fondamentali. Ok io ho concluso non so se ok eccoci perfetto sì 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 allora come promesso ragazzi adesso abbiamo uno spazio dedicato a voi a tutte le vostre le vostre domande. Io però farei così così vediamo anche un altro spunto di di approfondimento le opportunità in CGT perché ve le avevamo promesse prima. Adesso io vi condivido i due link qui qui nella chat. Sono due posizioni pubblicate su joiners diverse e quindi chiedo a Giulia e Enrica di raccontarci un po' più nel dettaglio queste belle opportunità e poi così insomma le domande possono arrivare anche e soprattutto forse su questa parte qui. Grazie Giuseppe. Allora su joiners troverete come diceva appunto Giuseppe due annunci. Uno open quindi aperto a tutti i giovani neolaureati che hanno voglia di sono curiosi. hanno uno spirito innovativo quindi possiedono le soft skills che abbiamo appena visto. CGT da sempre ogni anno inserisce numerose persone numerose persone in generale e poi nello specifico tanti neolaureati che entrano da noi e affrontano un percorso di crescita professionale e anche professionale. per cui se siete comunque interessati alla nostra realtà avendo avuto modo poi di ascoltarci oggi la candidatura spontanea in questo link è ben accetta. Dall'altra parte poi troverete una posizione specifica che è quella del business analyst che è una posizione rivolta comunque a figure junior che abbiano un percorso di studi di taglio economico. quindi è una persona che sostanzialmente avrà a che fare con l'analisi dei dati e il supporto di quella che è l'amministrazione dedicata alla divisione energia. Non vi spoilerò nulla poi andate a vedere tutti i dettagli nel link. In generale poi sul nostro sito sulla pagina lavora con noi trovate tutte le posizioni aperte costantemente aggiornate quindi se avete voglia potete fare un giro anche sul nostro sito. Allora facciamo così ragazzi io vi attivo la possibilità di accendere il microfono e lascio a voi qualsiasi tipo di curiosità su sia l'opportunità ma anche bersagliate di domande Stefano e Eximena perché secondo me è una bella opportunità per prendere un po' di segreti del loro mestiere. Veronica invece chiede Enrica il processo di selezione. Ok allora generalmente per i neolaureati andiamo a effettuare nell'arco dell'anno almeno 3-4 sessioni di assessment quindi colloqui di gruppo dedicati proprio ai giovani e neolaureati per una serie di posizioni che possono esserci aperte in quel lasto di tempo. Ad oggi essendo a fine anno non abbiamo ancora la programmazione quindi il calendario di quelli che saranno gli assessment del prossimo anno però sicuramente ne faremo parecchi. Al di là del colloquio di gruppo il processo di selezione solitamente prevede una prima phone interview quindi dopo l'applicazione all'annuncio verrete contattati se risponderete agli skills da me, Giulia o da un'altra collega. Al termine della phone interview se gli skills vengono rispettati si va a fissare un primo video colloquio poi tendenzialmente faremo un secondo step che cerchiamo di organizzare in presenza compatibilmente poi anche con la geolocalizzazione della persona. E poi il processo si conclude con quella che è l'eventuale condivisione della proposta economica. Proponiamo solitamente contratti a tempo indeterminato per i giovani anche neolaureati che entrano appunto da noi con un percorso di crescita e apprendimento. Perfetto, chiarissima, grazie. Allora io adesso mi rivolgo a Silvio, Mariano, Riccardo, Luca e vedo le vostre videocamere accese ragazzi. Ovviamente l'invito è stesso a tutti. Se avete qualche domanda, qualche curiosità davvero non preoccupatevi, accendete il microfono e partecipate con noi a questa chiacchierata. Secondo me è una bella opportunità. Luca sta pensando secondo me. Dovreste avere la possibilità di attivare il microfono. Nel frattempo vi do io qualche altra indicazione, perché magari qualcuno di voi si è connesso con qualche istante di ritardo, magari si è perso un po' la prima parte. Noi abbiamo registrato tutto, quindi tra oggi pomeriggio e domani mattina riceverete una mail con il link per recuperare la registrazione, ma anche e soprattutto i due link delle opportunità di cui vi abbiamo parlato poco fa, e quindi candidatura spontanea e business analyst per diventare, per entrare nel team di CGT. Stefano, Ximena, io vi faccio a questo punto una domanda. Mi chiedo qual è la cosa che vi piace di più nel vostro lavoro e la cosa che vi piace di meno? Lascio la parola a Ximena. Urco, mi hai lasciato il compito difficile. Allora, la cosa che sicuramente mi piace di più è appunto lo spazio che si dà ai giovani, nel senso che non vi ho accennato prima, ma sono in fase di cambio di ruolo. Quindi al posto delle tecnologie applicate al movimento terra, mi occuperò adesso di tutto quello che è il servizio per le macchine recycling. Questo perché, dico che è una cosa positiva, perché il fatto che affidino un nuovo ruolo, una nuova struttura soprattutto, perché è una struttura che al giorno d'oggi non esisteva in maniera formale, il fatto che la affidino alle persone giovani per me è di grande importanza per un'azienda, perché vuol dire che uno si fida dei giovani e delle loro idee, e due infatti cercano spunti da giovani. Come vedete, anche le nostre due recruiter sono persone giovani, quindi siamo giovani che parlano ai giovani. Questa è una cosa fondamentale, secondo me, perché un'azienda, anche se vuole innovarsi e vuole crescere, ha bisogno dei giovani. I giovani danno dei spunti completamente diversi da quelle che sono le vecchie generazioni, anche perché i tempi cambiano, le scuole che frequentiamo cambiano, e bisogna comunque anche adattarsi alle esigenze della quotidianità, anticipando il futuro, me la metterei così. Cosa non mi piace? Questa è una domanda molto più difficile, quindi non so, magari ci penso un attimino. Va bene, va bene. Stefano. Ottimo. Stefano che è partito, ha avuto il vantaggio perché ha avuto tutto il tempo per pensarci. Esatto. Intanto, grazie dello spunto, perché mi ci ritrovo anch'io, aggiungo la quota di autonomia che si ha nel portare avanti quello che si sta facendo, nel senso che questo ovviamente dipende dal ruolo che si ha. Però la possibilità di portare il proprio contributo personale, cioè caratterizzare un po', dare il contributo che si vuole, è una cosa non scontata, non banale, ma dà molta più gratificazione rispetto che l'eseguire un compitino assegnato. Quindi assolutamente. E poi aggiungo una nota che in questa azienda si investe tanto sulla crescita delle persone. Non ne ho girate altre, dico la verità, però conosco tanti miei colleghi e da noi in realtà ci sono vari percorsi di crescita per i giovani, si viene stimolati a prenderne parte, ci sono delle occasioni per creare una specie di commute interna per i giovani, ma di reparti completamente diversi e questo sicuramente è una grande fonte di ricchezza. Un aspetto negativo nella mia operatività, ad esempio, più che negativo, un po' macchinoso, è il fatto di doversi interfacciare con tantissimi attori diversi nel mio ruolo e quindi ad esempio questo a volte provoca un po' di ritardo nelle cose, nel senso che devi aspettare che ogni altra persona faccia quel pezzettino, no? Però è una cosa su cui io personalmente sto cercando di lavorare portando delle migliorie, quindi internalizzando delle cose che ad esempio adesso mi svolgono altre persone e quindi diventando capace di farle fondamentalmente, ma anche cose che proprio non centrano niente col mio percorso e anche magari in altri modi. Però ecco, anche questo il fatto di, ok, c'è un problema, c'è un rallentamento, cerchi di proporre la soluzione. Questo secondo me è un qualcosa che vi potete portare e poi applicare in qualsiasi campo, diciamo. Non so se Ximena ha trovato... Sono abbastanza d'accordo su questa cosa, soprattutto appunto col cambio di ruolo, sto conoscendo un'altra fetta di CGT che magari finora non ho conosciuto bene e appunto lo noto anch'io un po' questo passaggio. Però il nostro lavoro è anche quello, cercare di ottimizzare questi passaggi, cercare comunque di conoscere i nostri colleghi in maniera da avere poi la via diretta su quello che bisogna fare. Intanto ho letto la domanda sul se esiste una giornata tipica nei nostri ruoli. Comincio a rispondere io, il mio lavoro non è mai stato di routine, quindi anche lì mi viene da dire, a seconda di quello a cui uno aspira, c'è la persona che vuole una routine e secondo me ci sono dei lavori in CGT che sono puramente di routine, ma ci sono anche dei lavori che non hanno una routine. Io so che ora magari esco di casa, ma non so mai quando torno, perché come ruolo di specialista di prodotto, lato 3D, sono sempre stata in cantiere e ho girato tutta Italia. Quindi pur facendo sede a Milano, ho girato tutta Italia, tutte le regioni ho visitato e quindi la mia routine non esiste. Soprattutto perché mi sono occupata sia della parte consulenziale, quindi magari l'affiancamento al commerciale in fase di trattativa col cliente, ma ho fatto anche formazione sia ai colleghi che ai clienti. Ho fatto anche assistenza tecnica, interfacciandomi che sia col titolare dell'azienda perché ha problemi con i software, oppure per esempio l'operatore che non si ricorda come fare una determinata azione o perché ha un bisogno sulla macchina. Quindi il mio lavoro è stato sempre a 360 gradi e anche la nuova posizione secondo me non è da meno. Quindi la routine per me non esiste, ma io sono contenta così. Quindi se poi appunto uno preferisce la routine, direi che ci sono diversi colleghi che hanno una vita più di routine, ecco. Grazie. Rispondo anch'io. In realtà abbastanza simile a quello che ha detto anche in questo caso Ximena. Nel primo ruolo magari un po' più standard il tipo di giornata, ma non il progetto analizzato. Io prima ero un tecnico commerciale, propose l'ingegnere, diciamo, viene detto su LinkedIn, però alla fine sei a metà strada fra il tecnico e il commerciale. La giornata tipo poteva essere un sopraluogo da cliente, rilievo fotografico, parli con gli operatori, capisci, prendi informazioni, ritorni in sede, ti metti davanti il computerino e inizi a pensare a che tipo di impianto potrebbe andare bene per quel cliente. Il cliente magari ti ha dato un'idea, però magari non è la cosa corretta. Quindi calcoli, quindi inizi a parlare con persone dell'ufficio tecnico, inizi a fare elaborare il P&I, il layout, quindi i documenti tecnici, diciamo. Ti interfacci con i fornitori per la soluzione che man mano prende vita, fino a quando hai la creazione, diciamo, dell'offerta. Ovviamente ti interfacci anche con il reparto commerciale, che è proprio quello che dovrà far firmare il contratto, ovviamente se si porta a casa. E anche magari con lato service, se per caso hai delle problematiche, hai dei dubbi, anche di ricerca in realtà, perché a volte i clienti ovviamente noi tendiamo a dare soluzioni customizzate. Quindi in realtà ogni progetto mi ha dato l'occasione di approfondire un aspetto magari diverso, o che magari in altre non serviva, o era di minore importanza. Nel nuovo ruolo ancora di più questa cosa, la routine, ovviamente, io ovviamente perché non riuscirei a fare un lavoro rutinario, e in questo sono simile a Ximena, perché seguo alla fine, a livello di consulenza energetica, cliente per cliente, impianto per impianto. Ognuno ha un'esigenza diversa, ognuno, cioè con ognuno deve usare un approccio diverso, e cercare di capire anche le levi giuste per andare effettivamente a ottimizzare l'impianto. Perché poi la tecnologia c'è, si utilizza, però dopo hai le persone davanti, quindi anche il fatto di far ragionare clienti che magari non sono tecnici, non sono ingegneri, non è così facile. Quindi subentrano tutta una serie di cose. Spero vi aver dato magari qualche informazione rispetto alla domanda. E poi c'è Manuel che vi chiede come viene vista la possibilità di lavorare smart working in CGT. Sì, allora, in CGT facciamo smart working e abbiamo la possibilità di fare un giorno alla settimana. Quindi sono quattro giorni al mese in totale. Ottimo, perfetto. Vediamo se c'è qualche altra curiosità. Direi di no. Abbiamo detto ovviamente davvero tutto. Io, diciamo, da parte mia vi faccio un grande in bocca al lupo, nel senso che poi tanti di voi lo sanno perché hanno partecipato ad altre esperienze online. Il nostro obiettivo è farvi conoscere le aziende dall'interno. Quindi farvi capire se una realtà aziendale è davvero fatta al caso vostro. E infatti la domanda di Davide secondo me è super giusta, la giornata tipo, perché ti fa rendere conto di quello che si fa e anche un po' del carattere portato per un determinato ruolo. Non tutti sono portati per determinate figure. Quindi questa cosa è positiva. Grazie Stefano, grazie Ximena per la vostra testimonianza. Secondo me siete stati molto preziosi. Grazie a voi. Grazie per questa opportunità. Grazie mille. Erika, Giulia, mi ha fatto piacere conoscervi e ovviamente magari con tanti di loro vi incontrerete nei prossimi giorni, prossime settimane nel processo di selezione. Ve lo auguro. Assolutamente. Speriamo. Mi raccomando, candidatevi se siete interessati. Grazie ragazzi e buone feste, visto che siamo anche in periodo. Ciao a tutti. Grazie. Ciao. Buona giornata. Buona giornata.